Cari amici del Coffee Break, bentrovati! Per questo mese di maggio ho pensato a delle pause caffè tutte dedicate alla figura di Maria. Mese di maggio, mese Mariano. Cominciamo subito con un versetto che si trova nel Vangelo di Giovanni. Il capitolo è il secondo e il versetto è il numero 5. Sua madre disse ai servitori, qualsiasi cosa vi dica, fatela. Ho scelto questo versetto per la nostra pausa caffè di oggi perché penso veramente che per introdurre la figura di Maria dobbiamo accostarci a lei come la madre. La madre è quella che nella vita di tutti noi può dirci delle cose che alle volte non sono esattamente quelle che noi ci aspetteremmo, come in realtà l'Evangelista Giovanni ci racconta durante le nozze di Cana. Eppure è proprio lei che spingendo il figlio verso una rivelazione più piena attraverso il segno dell'acqua di purificazione tramutata in vino durante le nozze apre il ministero pubblico del figlio e apre l'accesso alla fede dei discepoli. Direi che per iniziare il nostro mese di maggio possiamo fare nostra questa sua richiesta. Qualunque cosa ci dica. Lei è la madre che ci spinge ad ascoltare qualunque cosa ci dica il figlio e fare di conseguenza. È pronto il nostro caffè. Lei è la madre che ci spinge ad ascoltare qualunque cosa 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 ci spinge ad ascoltare